quante sere alla settimana ti ritrovi con una to do list non vuota con un calendario in cui un sacco dei lavori che avevi elencato non sono stati completati beh a me succedeva molto spesso tra l'altro avere un figlio poi mi ha anche complicato le cose ma ho ridotto di molto il problema grazie ad una tecnica che sembra banale ma in realtà e ho scoperto la usano persone estremamente produttive anche un ospite di tim ferris nel suo podcast di recente ha reso la tecnica super famosa e ti voglio parlare di questa tecnica oggi che ti permetterà di ridurre tantissimo lo stress e di avere anche più realismo diciamo nella tua to do nel tuo calendario io sono alberto cabas vidani ti do il benvenuto su questo nuovo video di italianindi.com su questo canale ti aiutiamo ad aumentare la tua produttività di solito ti parliamo di tool ma oggi ti parlerò più di una tecnica appunto di produttività che è indipendente dai tool e ti aiuterà sicuramente a far crescere la tua produttività a far crescere il tuo business e a migliorare la tua vita in sostanza qual è il problema che noi spessissimo sopravvalutiamo il tempo che abbiamo a disposizione sottovalutiamo il peso la difficoltà la quantità di lavoro necessaria per una per un'attività e quindi mettiamo troppa roba nel calendario e non puoi andare avanti tutta la vita a lamentarti e a ridere sul fatto che ah sì non sono tanto bravo a stimare è un problema che tutti quanti abbiamo non c'è da vergognarsi però se fai così cosa succede prendi impegni che poi non puoi rispettare oppure a un certo punto devi buttare lì le cose e peggiorare la qualità perché devi farlo in fretta hai preso l'impegno devi completarlo ma hai dedicato troppo poco tempo e di conseguenza non puoi farlo con la dovuta attenzione ci sono mille problemi tra cui appunto lo stress soprattutto e per me per esempio arrivare a fine giornata con questa lista to do che continua a tracimare da un giorno all'altro mi fa non mi fa grande piacere mi fa proprio sentire in colpa e ho provato praticamente qualsiasi tecnica di produttività che l'uomo abbia inventato sai tanto il famoso gtd alle morning routine a ristrutturare completamente mettere le cose la mattina la sera questa tecnica di cui ti voglio parlare oggi è assolutamente quella che ha portato il maggiore impatto chiaramente le altre le ho già applicate e abbandonate tenute a seconda di quanto mi servivano questa qui veramente ha cambiato però ha avuto un impatto grossissimo e adesso ti voglio far mostrare ti voglio far vedere come funziona e ti sembrerà veramente stupida ma ti garantisco che funziona e ti spiegherò anche perché è tutto visibile in questo calendario ovvero è sostanzialmente ogni settimana io ho bloccato un'ora al giorno due ore il venerdì che ho chiamato caos da un libro caos planning da cui ho imparato questa tecnica e questo caos è tempo in ogni giorno in cui non posso schedulare attività in anticipo questa questi spazi qui possono servire per attività che non ho finito il giorno prima e che devo riportare il giorno dopo perché non posso assolutamente eliminarle oppure per come buffer sostanzialmente per i lavori che non riesco a concludere in tempo nel giorno stesso oppure gli imprevisti che mi spingono le altre attività per esempio avevo previsto di fare qualcosa dalle 14 alle 15 mi si ammala il bambino devo andare a recuperarlo a scuola e allora questa cosa e poi alle 16 torna mia moglie quindi questa cosa qui dalle 14 la sposto alle 16 nella mia sezione del caos se proprio sono bravissimo e la mia to do list la esaurisco in anticipo il caos mi permette di riposare cosa che purtroppo succede di rado e devo aspettare che leonardo cresca in realtà un'ora è anche troppo poco soprattutto di questi tempi in cui sto facendo un sacco di esperimenti anche a causa delle cose che faccio in inglese e nel libro che avevo letto consigliava molto di più anche un paio d'ore sembra assolutamente una perte di tempo come puoi permetterti di bloccare un'ora al giorno per niente cioè un'ora in cui non puoi mettere nessuna attività lavorativa beh se vuoi ribaltare la domanda come puoi permetterti di arrivare continuamente all'ultimo momento essere sempre super stressato essere sempre esaurito fare i lavori di una qualità non ottimale non quella che potresti permetterti non avere mai chiarezza mentale perché sempre che rincorri le scadenze meglio avere quest'ora bloccata sostanzialmente per avere una doccia di realismo questa ora bloccata ti dice sicuramente sbaglierai di stimare il tempo necessario sicuramente ci saranno degli imprevisti questo tempo questa ora bloccata serve per recuperare questi errori che fai nella nella schedulazione o questi imprevisti punto è tempo che in realtà già stai occupando però invece di occuparlo casualmente lo occupi intenzionalmente ho messo più due ore al venerdì perché è facile che magari hai delle cose non urgenti ma che prima o poi devi fare che passano da lunedì a martedì a mercoledì e se le metti nel venerdì almeno ti assicuri che di fare prima della settimana e non ti porti sto pensiero fino alla weekend e magari addirittura la settimana dopo ecco questa qui è la tecnica ti basta un calendario l'importante è che lo usi il calendario perché se non metti i task sul calendario i task non esistono questo è un prerequisito hai un calendario prendi un'ora alla giornata in ogni giorno la mattina al pomeriggio un'ora che ovviamente non stai in cui normalmente lavori chiaramente non la cena o mentre dormi e quell'ora la blocchi quando fissi degli appuntamenti non li fissi durante l'ora del caos chiamiamola così e parti con almeno un'ora ma possibilmente anche due poi cosa succederà dopo una due quattro settimane che usi questo sistema ti accorgerai se quell'ora addirittura non ti basta e allora vuol dire che è un problema perché vuol dire che le tue la tua organizzazione è veramente fuori di testa per colpa tua o per colpa di qualcun altro ma sostanzialmente non è sotto il tuo controllo oppure scoprirai che in realtà quell'ora è troppo allora o quelle due ore sono troppo allora magari puoi ridurre e oppure mettere di più qualche giorno e di meno qualche altro questa è la tecnica ti consiglio veramente di provarla perché uno ti farà capire realmente quanto tempo hai a disposizione due ti aiuterà veramente a avere molto meno stress grazie di aver seguito questo video se ti è stato utile clicca mi piace è un grandissimo ringraziamento che puoi darmi per qualsiasi domanda usa i commenti perché rispondo sempre e ci vediamo al prossimo video ciao